Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare, Betafolycage. A cosa serve? Betafolycage ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la donna in gravidanza e allattamento. È commercializzato in Italia dall'azienda Logidex SRL. Informazioni commerciali, titolare, Logidex SRL. Concessionario. Logidex SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per la donna in gravidanza e allattamento. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Betafolycage 30 compresse 36G. Indicazioni. Utile per contrastare il progressivo deterioramento delle membrane neuronali e quindi sostenere funzioni mentali quali. Memoria, attenzione, concentrazione, disorientamento, spazio temporale. Modalità ad uso. Si consiglia l'assunzione di uno compressa al giorno da deglutire con un abbondante sorso d'acqua. Descrizione e caratteristiche. Betafolycage ha un integratore alimentare a base di citicolina, fosfatidilserina, vitamine del gruppo B, B6, B12, acido folico, betaina, coenzima Q10, zinco, magnesio, selenio e magnesio. Betafolycage rappresenta un valido supporto per il sistema nervoso grazie alle caratteristiche dei suoi componenti. Citicolina. Ha nutriente fondamentale per la salute cognitiva. La colina rappresenta un precursore essenziale nella sintesi dei fosfolipidi coinvolti nella formazione e riparazione delle membrane cellulari. Questo determina, a livello delle membrane delle cellule neuronali, una struttura sana e funzionale. Inoltre la colina ha un importante cofattore nella sintesi della cetilcolina, un neurotrasmettitore essenziale nella trasmissione degli impulsi cerebrali. Betaina, vitamina B6, vitamina B12 ed acido folico, quatrefolica. La presenza del gruppo vitaminico B contrasta l'incremento nel sangue dell'omocisteina. La sua elevata concentrazione non solo ha correlata alla presenza di deterioramento cognitivo ma rappresenta un fattore di rischio importante per ictus cerebrale e trombosi vascolare. In particolar modo la presenza del quatrefolica, acido folico di ultima generazione, rappresenta un componente estremamente efficace in quanto non necessita di attivazione enzimatica ed ha rapidamente assorbito a livello intestinale, particolarmente indicato nei pazienti con difetto genetico dell'enzima MTHFR. Fosfatidiliserina. Ha un fosfolipide strutturale delle membrane cellulari, specialmente nelle cellule del cervello e del sistema nervoso. Ha stato dimostrato che una riduzione del contenuto di fosfatidiliserina nella corteccia cerebrale ha associata alla progressione dal deterioramento cognitivo lieve alla malattia di Alzheimer. Negli esseri umani, l'incorporazione di fosfatidiliserina esogene, integratori, nelle strutture cerebrali ha funzionalmente rilevante, di fatti l'efficacia degli integratori orali a base di fosfatidiliserina ha stata dimostrata in studi in doppio cieco, controllati con placebo, specialmente in pazienti con disturbi della memoria senza demenza, migliorando il richiamo verbale, l'attenzione, la vigilanza e persino l'iniziativa e l'apatia. Coenzima Q10. Cofattore attivo nel ruolo di antiossidante a livello della membrana mitocondriale, ovvero protegge la cellula nervosa dallo stress ossidativo e ne preserva la sua longevità a avvertenze. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di un sano stile di vita. Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da luce e fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Validità A. 36 mesi. Allergeni senza glutine. Ingredienti. Citicolina sodica, betaina citrato, agente di carica. Cellulosa microcristallina. Fosfatidilserina, agenti antiagglomeranti. biossido di silicio, sali di magnesio e degli acidi grassi. Coenzima Q10, zincoossido, vitamina B6, piridossino a cloridrato, selenio, L selenio metionina, vitamina B12. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.